Amici di Ortona Notizie, buongiorno e buon pranzo. Più buon pranzo che buongiorno. Dopo la bomba di ieri e delle dimissioni del sindaco Leo Castiglione, dopo aver letto il documento che il sindaco ha preparato e ha detto alla pubblica stampa, naturalmente è stato un monologo fatto solo e esclusivamente contro tre personaggi della maggioranza. In pratica le sue dimissioni sono derivate esclusivamente dal comportamento di, facciamo i nomi, di Italia Cocco, dell'emerita presidente, come viene chiamata, del Consiglio Comunale, Simona Rabbottini e dal giovane, non più tanto giovane, rampante, Antonio Sorggetti. Quindi è doveroso dare la parola a questi tre chiamati, tra virgolette, dissidenti, chiamiamoli così tanto per individuare, anche se magari non è corretta la dicitura, però ecco, dobbiamo dare la possibilità di replicare a quello che il sindaco ha dichiarato pubblicamente. Allora, la prima domanda è, eravate al corrente delle dimissioni del sindaco? Sapete se effettivamente sono state già protocollate, fatte, oppure è solo un annuncio, magari lo farà lunedì, effettivamente protocollerà queste dimissioni? Sì, non sappiamo ancora se le dimissioni siano state protocollate, però teniamo anche a precisare che non avremmo mai immaginato di trovarci in questa situazione di forte imbarazzo per noi tre, perché un operato semplice di un Consigliere Comunale non può essere causa delle dimissioni del proprio sindaco, assolutamente no. Quindi aspettiamo domani, aspettiamo che cosa succederà. La domanda successiva, praticamente il sindaco, tra le sue rimostranze diciamo, ha evidenziato il fatto che voi tre nella maggioranza non siete in linea, nel senso che quando la maggioranza decide in maggioranza, tutti devono stare alle decisioni della maggioranza. Quindi voi invece si discute di un argomento. Confermiamo. Confermiamo del fatto che il principio democratico per noi è che quando ci sono pareri divergenti, il sindaco deve fare la sintesi, deve tener conto di tutte le posizioni, confliggenti o di quelle unanime, anziché dire che la maggioranza della maggioranza decide per tutti. Noi riteniamo che questo sia lesivo del principio democratico, anzi io credo che più le posizioni sono diverse, più dà un arricchimento al dibattito anche all'interno della maggioranza. Il sindaco ha anche affermato nelle sue dichiarazioni che in pratica non è la cosa che la maggioranza decide, il fatto è una goccia in pratica di un comportamento ripetuto da parte di voi tre, che praticamente mettono in discussione quello che la maggioranza, nella maggioranza decide. E quindi dà qui il suo malumore, il suo malcontento che non riesce ad operare come vorrebbe per il bene della città e quindi lui vuole tirare una linea di demarcazione e se deve andare avanti vuole che il tutto torni come era la scorsa amministrazione, cioè in compattezza, in unanimità di idee che attualmente lui non riscontra. Allora la domanda è, io vi pongo una domanda, è vero che si ha un mandato di maggioranza, no? Un vincolo, chiamiamolo così, è coggente, è una questione morale di coscienza. Legati al vincolo di maggioranza per quello che la maggioranza ha presentato in campagna elettorale, per i vari punti, ma quando nascono dei punti nuovi, voglio dire, le opinioni possono essere divergenti. E una, diciamo, il caso che è più eclatante per Ortona è il caso della permuta. La famosa permuta che ha visto letteralmente spaccata la maggioranza. Ecco, potremmo magari fare un escursus su questo importante argomento? Allora, sicuramente il clima di sfiducia nei nostri confronti è cominciato a novembre. Questo lo dobbiamo affermare con sincerità. E il discorso della permuta, noi non ci siamo sentiti di votare a favore perché abbiamo ritenuto che l'istruttoria fosse carente. Io lavoro in un comune da tanti anni, quindi ritenevo, e gli altri consiglieri l'hanno condiviso, che il procedimento amministrativo doveva essere impostato in modo diverso. Diciamo che questa problematica della permuta ha tenuto fermo la città per un mese, perché il primo Consiglio Comunale è stato convocato il 5 novembre, quello successivo il 25 novembre. E noi abbiamo ribadito durante quel periodo la nostra contrarietà a quella delibera, così come scritta. Che poi ci sia un problema giuridico da risolvere, cioè una occupazione illegittima da parte dell'ente su un terreno di un privato, l'hanno accertato i tecnici, quindi è comunque un problema che va risolto, ma va risolto con gli strumenti a disposizione della legge. La permuta è uno strumento, ma riteniamo che doveva essere l'ultimo strumento a disposizione dell'ente per risolvere questo problema giuridico. L'altro problema evidenziato, quindi il più recente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è in pratica il fotovoltaico. Il fotovoltaico è in primis il fatto che il consigliere Antonio Sorgetti è stato l'artefice di un emendamento alla proposta di delibera della minoranza, che è stata poi votata da tutta la maggioranza. Quindi il sindaco non si spiega come mai autonomamente avete presentato delle osservazioni senza che lui ne fosse a conoscenza. E quindi è un atto vero, concreto, di sfiducia politica nei suoi confronti. E addirittura è arrivato a dire che è un tradimento politico, non solo, ma che non avete il coraggio di farlo chiaramente, di dirlo chiaramente alla città, perché potevate tranquillamente farlo in consiglio comunale, raccogliere le firme e sfiduciarle. Invece con gli atti lo sfiduciate e questo non gli sta bene. Questo è, diciamo, il succo anche di un passo della lagnanza del sindaco. Signor Sorgetti, può rispondere a lei? Noi abbiamo presentato un'osservazione in quanto è vero sì che in consiglio comunale il sottoscritto ha presentato un emendamento condiviso dall'intera maggioranza sulla delibera presentata dall'opposizione, però ha fatto anche una dichiarazione dicendo che poi quell'osservazione presentata dalla minoranza e anche dalla maggioranza stessa sarebbe stata messa insieme, un'osservazione unica, che poi doveva essere condivisa con l'intera maggioranza e io ho detto anche addirittura con la minoranza, perché ritengo che un progetto del genere, una concessione di 40 anni, il territorio del Comune di Porto non è stata tutta. Solo questo, noi non abbiamo avuto una condivisione del documento finale da parte del sindaco e abbiamo ritenuto opportuno presentare una nostra osservazione alla Capitaneria di Porto, dando il nostro pensiero sul fatto che quel progetto, quella concessione del maniale debba essere spostata più a largo dalla costa. Noi non siamo contrari al progetto del fotovoltaico, assolutamente, è stato passato anche questo messaggio, ma non è così. Noi siamo a favore di tutte quelle iniziative che promuovono il territorio e che fanno bene al territorio, con questo non è che siamo contrari a quel progetto, ma siamo vicini a quell'idea progettuale a patto che resti a distanza dalla costa. L'ultima cosa che non è di poco conto, comunque ne chiedo conto a voi, è che probabilmente è stato anche palesato, che probabilmente i dissidenti, ripeto, tra virgolette, probabilmente hanno avuto delle aspettative deluse. Diciamo, cosa rispondete a questa accusa? Mi esprimo io dicendo che già l'abbiamo ribadito in Consiglio Comunale, che nessuno di noi chiede incarichi o ha aspettative. Io in particolare, se avevo assunto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale nella precedente amministrazione, avevo già dichiarato separatamente al Sindaco di non volere rivestire più quel ruolo, perché per me era stato molto faticoso e volevo anche avere l'ebbrezza di provare questo nuovo ruolo che a mio avviso mi riesce anche bene. Mi piace perché finalmente mi dà la libertà di parola. Ciò nonostante il Consigliere Sorgetti, per questo risposto io, avrebbe avuto il diritto, il merito di avere un incarico politico, perché il secondo consigliere più votato della maggioranza. Però poi per accordi nostri interni lui ha rinunciato al ruolo di Assessore anche a quello di Presidente del Consiglio e quindi ha accettato di buon grado quello di Consigliere Comunale. Per cui non parliamo di incarichi. Se avessimo voluto incarichi, l'avremmo chiesto già a novembre, anziché insistere nel nostro percorso. Quindi noi non chiediamo incarichi, non abbiamo bisogno di incarichi. La nostra linea è dettata, intanto da un criterio di trasparenza nei confronti degli elettori. Il nostro impegno è serio e è doveroso nei confronti dell'elettorato e soprattutto nel bene della città. È chiaro, adesso abbiamo un po' sentito tutti i pareri, quindi quello del Sindaco, quello dei tre consiglieri. A questo punto ci domandiamo per quale motivo, e vi domando, per quale motivo il Sindaco ha ritenuto di fare questa forzatura? Cioè ha messo addirittura in discussione la sua carica? Perché? Cioè voi da quello che dite praticamente non è successo quasi nulla da quello che dite. E quindi perché allora secondo voi il Sindaco avrebbe fatto una forzatura del genere, addirittura mettendo a rischio il proprio mandato? Perché? Ce lo chiediamo anche noi. Ce lo chiediamo anche noi. Eh ma avete un'idea. Ieri non sapevamo che ci fosse una conferenza stampa e che il contenuto di questa conferenza stampa fossero le dimissioni. L'abbiamo appreso contemporaneamente a voi giornalisti, per cui ancora adesso ci chiediamo qual è il motivo. Sì è vero, abbiamo fatto delle osservazioni, ma l'abbiamo fatto anche in un modo diciamo sempre prima avvisarlo, ma senza clamore. L'abbiamo fatto per le motivazioni che dice il Consigliere Sorgetti, ma mai contro di lui. Per cui non riusciamo veramente a capire le motivazioni che hanno indotto il Sindaco a questa a questa presa di posizione molto forte. E quindi io mi domando, Ortona si domanda, il Sindaco si domanda e voi dovreste domandarmi. E allora come se ne esce? Se ne uscirà? Quali sono? Diciamo, voi dite no, non abbiamo fatto niente, stiamo a posto. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo dichiarato. Quindi non è che abbiamo fatto sotterfuggi per cui dobbiamo scoprire le carte. Noi abbiamo dichiarato quello che abbiamo fatto, il nostro comportamento. Poi gli elettori ci diranno se abbiamo sbagliato, se è stato un errore, se abbiamo difeso il territorio o no. Nei confronti del Sindaco e della maggioranza non abbiamo problemi. Dal momento in cui saranno protocollate le dimissioni ci saranno 20 giorni, come ha detto il Sindaco, per vedere se si ritrova una compattezza nella maggioranza. Noi non abbiamo problemi. Quindi questo è quando, questo vi dovevamo, i contendenti, il Sindaco vi ha spiegato tutto, i tre consiglieri accusati dal Sindaco di essere il caso Sbelli per le sue dimissioni, hanno detto tutto. Quindi noi ringraziamo, continuiamo a dare il buon pranzo e chi ha finito di mangiare diciamo che buona digestione a tutti. Buona causa di indigestione. Buon relax. Buon relax a tutti. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.